Predica calma l'infettivologo Matteo Bassetti con i numeri di contagi che salgono e le nuove varianti dice bisogna reagire con molta calma senza farsi prendere dal panico. Bassetti parla di fiammata estiva mentre in autunno potrebbe arrivare una nuova ondata che sarà tanto più piccola. Quanto sarà grande la nostra capacità di fare la dose di richiamo? Secondo gli esperti infatti serve per gli over 60 ai fragili effettuare la quarta dose il prima possibile. Dovremo abituarci a una dose di richiamo all'anno esattamente come si è fatto con l'influenza. Intanto i dati anche nella nostra regione sono tutti in peggioramento a cominciare dal tasso di positività che compie un balzo in avanti fino ai ricoveri ospedalieri serve più consapevolezza. Il virus non è sparito e bisogna restare in allerta. Grazie a tutti.